L'idea di Europa forse è l'idea che più si è sentita in quest'anno qui a Matera. Allora è con particolare piacere che questa sera ospitiamo sul palco di Matera 2019, a conclusione di quest'anno straordinario, un uomo che presiede il Parlamento europeo, il Presidente David Sassoli. Buonasera Presidente. Buonasera e benvenuto a Matera 2019. Buonasera a tutti. Un caro saluto a chi sventola con orgoglio la bandiera europea. Fra poco le sventoleremo in tanti perché dovreste averle ricevute tutti all'ingresso, quindi preparatele perché vogliamo mandare un messaggio bello forte. Quello che si sta per concludere è stato un anno straordinario. Lasciatemi ringraziare le istituzioni, ma soprattutto i cittadini e le cittadine, le tante associazioni che sono passate da Matera, che hanno contribuito a questo straordinario successo. Permettetemi anche di salutare con voi la città bulgara di Plovdiv, che ha condiviso con Matera questo ambito primato nel 2019. Un caro saluto agli amici della Bulgaria. Per la civiltà europea la cultura costituisce il suo DNA. L'idea stessa di Europa si fonda sul valore della sua storia, sulle intelligenze, sulla creatività. Pur nelle diversità il nostro continente è capace di offrire al mondo un punto di vista originale che tiene al centro la dignità e le libertà della persona. Voglio dirlo stasera davanti a tante persone, siete tanti, che l'Europa non è un'entità stratta. L'Europa sono i suoi cittadini, sono gli europei, il pensiero filosofico, le arti, la musica, la vivacità letteraria, le scoperte scientifiche, la poesia, il diritto. Chi dice che l'Europa è stata costruita contro i cittadini non fa lo sforzo di ricordare da dove siamo partiti, dal punto più acuto di dolore della storia europea del Novecento, dove un secolo di guerre che hanno attraversato le nostre città, i nostri paesi, hanno riempito di macerie le nostre città e di macerie di morti i nostri paesi. Ovunque si vada, nei 27 paesi dell'Unione, in ogni città, in ogni borgo, non si può fare a meno di vedere la lapide in ricordo dei morti, dei nostri morti, che di qua e di là dal fronte ci ricorda sempre di giovani che non sono tornati a casa. Dalla guerra franco-prussiana alla prima guerra mondiale, alla seconda, la via Crucis europea coinvolge e ha coinvolto tutti i paesi. Lo dico alle maestre, ai maestri, ai nostri professori, portate i nostri ragazzi a rendere omaggio ai nostri morti, fate leggere i loro nomi, invitateli a ricostruirne la vita, perché noi veniamo da lì, dal grido delle mamme che, accogliendo i cadaveri dei loro figli, hanno maledetto la guerra. Non dobbiamo mai dimenticare che quello che abbiamo lo dobbiamo alle generazioni che hanno saputo raccogliere quel dolore e con coraggio buttare giù i muri dell'odio fra le nazioni, che hanno saputo vincere l'idea nazionalista che io sono migliore di te. Non ci vuole coraggio ad alzare i muri, ci vuole coraggio a scavalcarli, come cercavano di fare i giovani berlinesi scappando da regimi dove non era garantita la libertà. non è coraggio, ma vigliaccheria prendersela con la povera gente solo perché è indifesa. Perché dico questo? Perché le nostre bellezze non sono fini a se stessi, ma generano valori. E come potremo godere delle nostre bellezze se non vivessimo in pace? Che senso avrebbe? Avrebbe avuto avere tante virtù, tante opere d'arte, tante zone archeologiche, tanti paesaggi invidiati da tutti. Se tutto questo non fosse utile a formare una coscienza libera, ad aiutare gli uomini e le donne a non arrendersi e ad avere l'ambizione di scommettere insieme. che senso avrebbe se tutto il nostro patrimonio artistico, culturale non fosse utile a rafforzare la nostra umanità? Solo la libertà genera bellezza e non è un caso che la magia dell'artista, del poeta non sopporti limitazioni. E a Matera quest'anno si è vissuta una straordinaria aria di libertà che ci fa credere che le tante difficoltà del nostro mezzogiorno le possiamo affrontare e prendere di petto. Dateci una leva, solleveremo il mondo. Questo avete dimostrato. e poi che se ci mettiamo insieme e non crediamo alle sirene di coloro che agitano bacchette magiche beh insieme possiamo fare molta strada e migliorare i nostri standard di vita. Grazie per aver dimostrato all'Europa che il Sud c'è. E' chiaro che servono più attenzione più investimenti. A Bruxelles stiamo seguendo con grande attenzione e anche con un po' di curiosità l'iniziativa del governo italiano di trasformare la crisi di una banca qui vicino sulle cui responsabilità dovrà esservi di inflessibilità perché sono state coinvolte persone semplici che hanno perduto tutto ma stiamo seguendo lo sviluppo che può consentire di avere una nuova opportunità e di avere una banca per lo sviluppo del mezzogiorno. sono grato al Presidente del Consiglio di avermi informato su questa strategia e noi faremo di tutto per seguirne gli sviluppi. Dobbiamo investire sull'Europa ma come? Beh, rafforzando la solidarietà come ha fatto Matera capitale della cultura europea che è riuscita a coinvolgere tanti sindaci numerose associazioni singoli cittadini fra cui immigrati disabili persone in difficoltà questa capacità di socializzare è riuscita a produrre risultati significativi sul piano della qualità delle proposte degli eventi realizzati e ha consentito risultati economici importanti. Non è stata una festa per pochi intellettuali o per una ristretta elite ma ha interessato un intero territorio ma per rilanciare il progetto europeo occorre investire sul valore delle comunità l'istruzione la cultura il nostro patrimonio la nostra diversità è quanto ci rende unici ma ancora interessanti in questa legislatura sarà necessario triplicare i fondi del programma Erasmus aumentare il budget di Europa creativa destinare nuove risorse al programma quadro sulla ricerca promuovere l'eccellenza e la rete delle università europee migliorare i programmi di scambio internazionale e dare piena attuazione all'agenda europea per la cultura ancora una volta faccio appello e voglio farlo con voi perché il Parlamento italiano recepisca uno dei provvedimenti più importanti dell'ultima legislatura la direttiva sul diritto d'autore sul copyright non deve essere rubato il lavoro di nessuno deve essere remunerato e noi lo diciamo ai giganti del web l'Europa lo può fare ecco perché abbiamo bisogno di un'Europa più forte come sarebbe possibile regolare l'attività dei giganti della rete che hanno a disposizione enormi risorse quale paese europeo potrebbe farlo da solo no abbiamo bisogno dell'Europa per dire ad esempio che le tasse si pagano nei paesi dove si fanno i profitti domani con un ideale passaggio di testimone alla città irlandese di Galway e a quella croata di Rieca che saluto con amicizia si chiuderà questa straordinaria esperienza di Matera ma è naturalmente solo l'inizio di un'altra avventura vi siete allenati quest'anno avete dimostrato a tutti cosa potete fare beh questo patrimonio non disperdetelo diciamolo alle autorità alle istituzioni di sostenerlo quando nel 1963 Pasolini scelse questa città come set del suo Vangelo secondo Matteo disse di aver trovato qui il sole il sole vero il sole ferocemente antico oggi non troverebbe solo un sole ma una città che ha saputo valorizzarsi che si è aperta al mondo che ormai è conosciuta in tutto il mondo e che è riuscita a rappresentare in modo straordinario l'Italia e i più autentici valori dell'Europa grazie Matera grazie al presidente del Parlamento europeo David Sassoli grazie davvero presidente presidente